questo qua è il fornello ho capito ma cosa gli dico a mio marito gli ho detto che almeno oggi non lavoravo cosa gli invento che cosa mi raccomando oggi tenete la bocca chiusa perchè se mi becca gli avevo raccontato che andavo dalla parrucchiera vabbè dai, già che sono qua faccia su qualcosa ha la bella pasta chiusa ciao bella ciao te ma contassù un attimo come va poi il lavoro lì sei sempre detto a spadellare parci che cosa mio marito non mi sopporta più oramai una bella ogni volta uomini non c'è niente da fare guarda gli ho detto 200 volte stai fuori dalla cucina ma a mano glielo dico più poi te ho capito ma anche lui ci avrà le sue ragioni ce li fai sempre a mangiare agli altri e lui settimana scorsa gli ho fatto un uovo te non mangierai mica solo un uovo poeri te smeta, vada che ieri sera gli ho dato due mele sbucciate un po' marse però alla fine sono riuscita a farli su un piatto un po' in sistema in qualche maniera del resto è il mio lavoro poi dopo quando mi chiede qualcosa di sofisticato non è che sto lì a far su da mangiare prendo qualcosa lì per vabbè alla fine magari non è contento tuo marito ma continua a lavorare potassù mi a me anche i soldi gli fan piacere potassù gli funziona a mo no? o perché? cavoli? non è facile perché una volta mi ha detto potassù mi ha amato certo le ragazze fanno i miei partiti e faccio a correre gli ho detto grazie un'altra volta hanno chiamato lì e poi dopo sono andato a fare i giro ma non ti interessa se mangia sul nervoso? potassù arrangerà? ho le mie cose da fare io tutto il giorno non è che posso stare qua e stare dietro al suo umore potassù sembreresti anche la donna perfetta sempre in cucina a spadellare e ma che lingua? e beh ostrega peggio per lui ormai mia sposata ciao